ciao a tutti sono sissi bentornati sul canale e oggi vi faccio vedere un po dei miei ultimi acquisti sono andata a spendere un po di soldi all tigota e un negozio per specialisti nel senso specialisti del settore parrucchieri estetisti eccetera dunque andiamo come prima cosa vi faccio vedere le cose che ho preso tigota primo acquisto che ho fatto l'unbelievable brow questo me l'ha consigliato la cara silvia saidori dell'angolo di saidori è un prodotto di cui lei parla tantissimo mi sono fidata e ho fatto molto bene praticamente è un prodotto per le sopracciglia e io l'ho preso nella colorazione 104 chatin chatin si legge non so come si pronunci credo chatin praticamente questo prodotto vi viene è di l'oreal e vi viene con il suo comodo pennellino applicatore da una parte così che è pure sporco perché ce lo su in questo momento da una parte così e dalla dall'altra parte è così per sfumare insomma allora sono soddisfattissima di questo prodotto lo consiglio chiunque è un po una coppia del wunder bravo non so se l'avete mai sentito nominare ma qualche anno fa era scoppiato questo prodotto venduto su internet su amazon che si chiamava wunder bravo io avevo la matita di wunder bravo che mi era stata data dalla mia amica daniela perché lei l'aveva presa e non andava bene con il suo colore quindi me l'aveva data avevo questa matita che adesso non so più dove finita forse l'ho buttata via perché è finita e avevano anche un altro prodotto che era praticamente identico a questo e infatti si chiama unbelievable bravo il nome è un po simile molto simile questo è un prodotto di qualità lo pagate tra i 13 e i 15 euro insomma io l'ho pagato 13 e 60 mi pare e devo dirvi la verità che ero molto in ansia quando ho comprato questo prodotto perché quando sono andata a vederlo non lo so non mi convinceva molto il fatto del colore perché questo sembra molto chiaro per me come colore vi faccio vedere anche lo swatch ma il 105 brunette era veramente troppo scuro quindi vedete così è quasi per le bionde questo colore vedete però devo dirvi la verità cioè io ce l'ho oggi applicato secondo me c'entra abbastanza con il mio colore di capelli sono contenta di aver preso questo e di non aver preso brunette perché è veramente brunette che è la colorazione dopo di questa non c'è un intramezzo è veramente troppo troppo scuro la commessa mi ha fatto lo swatch sulla cartina perché adesso non si può svuocciarsi sulle mani sulla pelle eccetera mi ha fatto uno swatch sulla cartina e veramente ero in seria difficoltà perché non sapevo cosa fare se prenderlo se non prenderlo insomma erano quasi 14 euro detto cavoli se li devo buttare via un po mi girano no però mi sono fidata mi sono sfidata di sei dori perché anche lei l'ha preso in questa colorazione anche lei è castano chiara insomma mi sono fidata di lei l'ho preso e sono veramente molto contenta la stesura la durata è veramente un prodotto di qualità mi sento di consigliarvelo e se siete come me che siete molto indecisi io vi consiglierei di fare questa cosa andate da tigotà o da acqua e sapone da chi lo rivende insomma con il vostro pennellino c'è un pennellino così come questo adesso non riesco a poterlo fuori un pennellino angolato così che ce l'avrete sicuramente vi portate il vostro pennello e quando la la commessa ve lo swatcha sulla cartina lo prendete e lo provate lì io ho sempre fatto così per tutte le cose soprattutto per i fondotinta ancora prima di questa storia del covid quindi io andavo in negozio con il mio pennello da fondotinta in questo caso e dicevo io sto cercando un fondotinta però vorrei fare l'applicazione perché sono molto indecisa non so cosa fare sono confusa sui colori e su tutto quanto non riesco l'armocromia zero non riesco a matchare e quindi andavo con il mio bel pennellino portato da casa con lo swatch mi facevo l'applicazione e poi decidevo insomma quindi vi consiglio di fare così se siete totalmente se brancolate nel buio un po come me io mi sono fidata ho fatto un po un acquisto al buio e mi sono trovata bene secondo prodotto che ho preso con mia sorpresa ho scoperto che il mio tigotà vicino allo stand di essence non so se ce l'ha sempre avuto io non l'ho mai visto o se è una cosa che hanno messo recentemente ho preso il ecco che lo faccio cadere certe cose non cambiano mai neanche nel 2021 ho preso il lash princess di essence il false lash effect mascara e l'ho preso in versione normale non waterproof perché se voi vi ricordate ve l'avevo fatto vedere che io ce l'ho anche in versione waterproof che non so cosa mi è venuto in mente di prenderlo praticamente come ho detto nell'altro video ho detto probabilmente dovevo piangere perché è validissimo questo prodotto già lo consiglio è proprio un waterproof che più waterproof non ce n'è perché non si strucca neanche con non lo so non viene via con niente praticamente mi devo staccare le so le ciglia per farlo andare via questo prodotto e quindi mi è piaciuto così tanto perché performante performante però lo volevo appunto in una versione che non mi devo strappare gli occhi per sloccarlo quindi l'ho preso esattamente il false lash effect ma in versione non waterproof gli scovolini sono identici la performance è identica anche se secondo me questo qui waterproof è un po più liquido di vedete gli scovolini sono identici è un po più liquido di di quell'altro non lo so un po più denso un po più non lo so forse questo è un po vecchiotto come come mascara ecco no che rincoglionita che sono guardate cosa ho fatto ho messo sbagliato dentro lo sapevo io che facevo sta cosa lo sapevo mamma mia adesso li ho mischiati vabbè niente probabilmente lo taglierò questo pezzo vabbè comunque ve li consiglio tutte e due se cercate un waterproof veramente waterproof la versione waterproof se cercate una versione normale questo sicuramente ho preso quello sfigato che qualcuno l'avrà aperto toccato o quello più vecchio di tutti purtroppo non aveva nessun sigillo a me mi fanno un po imbestialire queste cose perché quando vedo i trucchi che non hanno sigilli cioè non c'è bisogno di fare un packaging contro l'ambiente tutta plastica eccetera però almeno mettere un sigillo di di garanzia non lo so di chiusura cioè vi vi anche vi tutela un po da da non prendere una cosa che è stata aperta è stata toccata da tutti soprattutto nei negozi dove gira gente che tocca e apre tutto come può essere un tigotà o uno stand essence in ovs e niente che ho fatto anche la mia polemica poi ultima cosa che ho comprato da tigotà è questa crema che ve l'avevo già fatta vedere i provenzali crema viso idratante alla rosa moschita è la crema mia preferita che la mia pelle riesce a sopportare è una crema idratante con acido ialuronico ed è light quindi è indicata per pelli normali e miste se avete la pelle normale o mista come la mia è una crema abbastanza la è un idratante light che non vi fa non vi unge vi idrata non vi unge e non vi fa nemmeno l'effetto matte quindi ve la consiglio ve l'avevo già anche consigliata poi passiamo velocemente al a quello che ho comprato nell'altro negozio ho comprato un sacco di robe per capelli che non userò mai no non è vero sto scorzando ho comprato tutti questi scrunchies me ne manca uno sì ho comprato tutti questi scrunchies stracarini con di pelo con le orecchiette no e niente quindi li ho comprati in tutti questi colori in tutti i colori disponibili che c'erano quindi biondo rosa antico bordeaux rosso bordeaux grigio e nero non so sono molto carini non so quanto li posso usare io con i miei capelli perché non so che chignon posso fare io che non ho pratica ho zero volume però in qualche modo li utilizzerò altri scrunchies che ho comprato questi ancora meno portabili per i miei capelli degli altri ho fatto tutti acquisti un po sconclusionati no sono questi rosso che secondo me mi sta molto bene il rosso bordeaux e secondo me io continuo a dire di essere fredda come sottotono quindi questi colori così accesi mi stanno bene e quindi l'ho preso in questo rosso rossone che mi piace come piace a me e questo nero quindi sono questi scrunchies che hanno questi fiocchi bene questi non so non so cosa mi inventerò di pettinature poi altre cose per capelli mi sono comprata questa spazzolina che mini in versione da viaggio io sono fissata con le mini spazzole infatti qua sulla mia scrivania ho anche questa sempre che l'ho sempre presa lì in quel posto lì e niente quindi questa dovrebbe lucidare i capelli perché a queste setole fatte così insomma vi farò sapere altra cosa che ho preso per i capelli è questo che lo vedete un po su in internet su amazon e su quei vari siti un po in tutte le salse è un massaggiatore per il cuoio capelluto per quando vi lavati i capelli insomma non so mi ispirava e l'ho preso le setole sono molto molto morbide e non vedo l'ora di utilizzarlo quando mi lavo i capelli devo dire che ho un po paura perché se voi avete visto il mio video precedente precedente e sono sempre in ballo dire che ho queste fisse queste fisse queste fisime sui miei capelli che ho sempre paura che qualsiasi cosa me li strappi mi cadano i capelli e la mia più grande paura quella di perdere i capelli probabilmente quindi un po paura di utilizzarlo ma non so farò delle prove e poi vi saprò dire anche se è un prodotto anche questo se è un prodotto che fa per me o no e niente su internet su amazon lo trovate un po in tutte le salse anche più carino di questo devo dire la verità ne ho visti in giro di più carini magari rosa azzurro tiffany però lì c'era questo non avevo voglia di comprarlo online e aspettare e l'ho preso se mi trovo bene posso valutare di prenderne anche uno più carino e questo mandarlo in pensione ultima cosa che ho preso per i capelli è questo shampoo che è di fanola ed è il botugen è il ritual botolife shampoo ed è uno shampoo ricostruttore con botolife cheratina e acido ialuronico l'altra volta nell'altro haul vi avevo fatto vedere che ho preso la versione quella blu sempre di fanola di questa linea e devo dirvi la verità che lo shampoo quello blu è per capelli anticrespo insomma è uno shampoo anticrespo c'è dentro la cheratina e per capelli trattati chimicamente io vabbè ho fatto la tinta però a parte quella che è già sbiadita i miei capelli non sono trattati chimicamente quindi quello la blu l'ho trovato un po più ricco come shampoo un po troppo ricco per per i miei per i miei capelli insomma per il mio tipo di capelli e aspetto di provare questo infatti la mia amica parrucchiera mi ha detto secondo me per il tuo tipo di capelli questo è più indicato quindi ho preso questo con grandi aspettative e vi farò sapere anche di questo come come va se mi piace se non mi piace se è troppo ricco anche questo io avevo provato di tutte e due di quello la col della versione blu quindi anticrespo e di questo con l'acido ialuronico lo spray styling quello dopo lo shampoo insomma quello a capello bagnato pre phone e devo dire la verità che mi ero trovata benissimo con tutte e due sia quello blu che quello rosso e niente boh vediamo adesso lo shampoo come va anche le maschere mi sembra che avevo la maschera di questo qui rosso di botugen l'avevo già utilizzata anche quella fantastica mi ero trovata bene vediamo con lo shampoo io ho grandi aspettative su questo shampoo poi ho preso questa pallettina che è di bella oggi italia è una marca che non avevo mai sentito a dire la verità ed è la palette fire adesso non riesco a aprirla anche c'è dentro una roba che non me la fa aprire adesso io spacco tutto perché tanto oggi va così siamo in vena di fare bloopers infatti lo spaccato tutto tanto non mi serve il cartone questa palette è la palette fire ed è della nature power collection quindi erano tutte queste palettine ogni palettina aveva il nome dei quattro elementi quindi questo è fuoco fire vuol dire fuoco c'era earth c'era wind c'era water e io ho preso questa qui fuoco che era quella un po più nelle mie corde anche wind wind era sui toni del del viola mi ispirava molto anche quella ma siccome non so le performance di questo prodotto ho deciso di prenderne per il momento solo una viene con il pennellino questo qua proprio inutile quindi questo mi serve per le unghie per mettere l'effetto specchio ecco questo lo riciclo così e niente praticamente questa palette è molto economica devo dirvi la verità e adesso non vi dico i prezzi non sto a dirvi i prezzi perché comunque è un negozio per professionisti quindi non sarebbero realistici i prezzi che troverete voi online o nei negozi non specializzati quindi però è molto una palette molto economica mi ispira molto questo grigio con i brillantini e anche questo rosa proviamo a fare due swatch va facciamo il grigio e facciamo questo rosa matt rosone matt ok allora grigio rosone matt che poi non è matt in realtà ma è un po metallico allora vai grigio performance zero rosone rosone metallico anche questo non è molto performante boh vediamo sull'occhio qua tra l'altro ho fatto anche un po di cialchi di effetto gesso e niente quindi non so perché ma ho l'idea di che questa palettina andrà nei bocciati quanto prima però in mia discolpa non l'ho neanche pagata chissà quanto quindi per il prezzo che ha qualcosa ne tireremo fuori vi farò sapere anche questa poi ho preso un altro contorno occhi che il nivea cellulare perfect skin questo negozio vende anche dei prodotti così di prodotti insomma di skin care e ho deciso di a prezzi vantaggiosi quindi ho deciso di prendere di provare questo nivea cellulare skin e oddio ma com'è l'applicatore guardate com'è fatto come sei fatto come ti devo utilizzare è un tappo sono in difficoltà no mi sa che esce proprio da qui dalla punta vediamo oddio non sapevo è proprio è come se fosse un po un correttore perché è pigmentato vedete che è pigmentato è dello stesso tra l'altro dello stesso colore della mia pelle perfetto nel nella mia ingenuità nella mia ignoranza diciamo così ho preso anche un colore adatto a me però vedete che è colorato vedete vai a fuoco è colorato è come se fosse un correttore non lo so lo proverò vi farò sapere tra l'altro in quel negozio lì l'altra volta avevo preso il mio favorito il filler occhi collagene filler collagene occhi di l'oreal che questo è uno tra i miei preferiti dei contorni occhi di sempre praticamente mi sono trovata benissimo e adesso con questo vediamo come consistenza non è male anche che ha questo effetto un po coprente profumo zero non sa di niente il che è un bene andiamo avanti con l'ultimo acquisto che ho fatto che è stato un acquisto che non so neanche io perché ho fatto questo acquisto sapete quando comprate le cose che non sapete neanche perché le avete comprate insomma o le comprate così giusto per comprarle ecco questo è questo acquisto ed è l'idrabomb crema super idratante di garnier crema super idratante antiossidante 3 in 1 per tutti i tipi di pelle di questa linea hanno fatto varie cose ci sono anche le maschere le idrabomb sono famosissime e io di questa linea ho un prodotto che non mi piace per niente di cui ho comprato addirittura due confedue flaconi che è l'idrabomb protect ed è tipo uno spray spray da idratante multiprotettivo che ha un spf 30 l'avevo preso per l'estate insomma da spruzzarmi sul viso eccetera vedete uno di questi spray ma per i miei il profumo è buonissimo per il mio tipo di pelle del viso non va bene perché divento lucida che più lucida non si può e addirittura ne avevo preso due confezioni perché non lo so perché nemmeno io perché si vede che per questo per questa linea ho un debole non lo so mi piacerà il packaging non lo so ma questo qui lo sto utilizzando soprattutto d'estate lo utilizzo sul corpo come dice la mia guru kourtney kardashian praticamente se avete delle cose per il viso che non vanno bene per il viso per il vostro viso potete sempre riciclarle per il corpo quindi io me lo passo sulle braccia sul decoltena così mi rinfresca durante l'estate mi profuma anche quindi questo ce n'è poco lo lascio qui per la primavera e vediamo questo questa crema idrabom mi piace molto che sia fatta così e che non ci devo ficcare dentro il dito è molto igienica questa cosa boh vediamo vediamo questa crema com'è spero di non aver fatto una cavolata non ha il profumo dello spray non ha quasi profumazione la profumazione è delicatissima e non lo so la consistenza è molto leggera è molto leggera bisogna vedere se si assorbe velocemente o se vi lascia se lascia una patina lucida sulla mia pelle vi farò sapere anche di questo idrabomb crema idratante super idratante 3 in 1 bene il video è finito i miei acquisti ultimamente sono stati questi adesso sto per entrare nella zona rossa per l'ennesima volta quindi per il momento i miei acquisti sono tutto qua e io risparmierò dei soldi vi bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie.